Voglio essere libero, libero come un uomo. Voglio essere libero come un uomo. Irene Germini, RSUSB, Roma Capitale. Stefano Giandrea De Angelis, RSUSB, Roma Capitale. Perché è importante che i lavoratori siano presenti durante i tavoli di trattativa? Perché si sta firmando un contratto a discapito di 23.000 dipendenti capitolini. Perché i lavoratori devono essere protagonisti di loro stessi. Quali sono le vostre richieste? Di avere un contratto firmato da un sindaco eletto democraticamente. L'annullamento del verbale del 14 maggio. E l'annullamento della valutazione dirigenziale che ha discapito di tutti i dipendenti capitolini. E di avere un contratto che gli dia dignità e salario ai lavoratori che l'hanno perso durante il 2015. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione.